Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce io sono Elisa di Ti Svelo Un Trucco e oggi sono molto felice di parlarvi di Melvita, un brand di cosmesi bio francese a cui io mi sono avvicinata da poco, ma che ho scoperto essere una pioniera nella cosmesi biologica ed è uno dei principali brand di cosmesi naturale in Francia. Se siete curiosi di sapere quali prodotti voglio presentarvi oggi, aspettate un attimo e ci vediamo tra poco. I prodotti di cui vi parlerò oggi saranno inseriti in un pacchetto perché li abbiamo pensati da proporre insieme e se seguite il video fino alla fine a un certo punto vi svelerò anche una piccola sorpresa riservata per voi associata a questi prodotti. Le amanti della doppia detersione ameranno i prodotti che sto per presentarvi e cominciamo proprio da una delle ultime uscite in casa Melvita, il gel in oil struccante Detox. Detox perché oltre che eliminare le tracce di trucco e le impurità è pensato per eliminare anche le tracce visibili dell'inquinamento sul viso lasciando la pelle naturalmente struccata, liscia e idratata. La formulazione e la fragranza di questo prodotto sono appositamente ideate per le zone sensibili del volto, compresi gli occhi. Ha inoltre una formula extra delicata perché è composto da un complesso di tre acque floreali bio e quindi vanta proprietà idratanti grazie alla rosa, le nitive grazie al fiore d'arancio e antiossidanti grazie al tè verde. Proprio per questo è ideale per tutti i tipi di pelle, anche le più delicate. Questo prodotto come una metamorfosi si trasforma ed è una delle cose che più mi piace di questo gel struccante perché è appunto un gel ma a contatto con la pelle, massaggiando, si trasforma in olio. Come si usa? Si applica sulla pelle asciutta, quindi su viso, occhi, collo, si massaggia delicatamente, si trasforma in olio, poi si aggiunge un po' d'acqua, si continua a emulsionare fino a quando non ci si strucca completamente e a quel punto si lava il viso. A questo punto cosa facciamo? Passiamo a un'altra detersione utilizzando questa mousse, un prodotto che mi ha rapito il cuore la prima volta che l'ho utilizzato. Perché mi piace tanto? Perché questa mousse è un detergente di tutti gli effetti, però è priva di sapone, quindi va a pulire la pelle e purificarla in profondità ma molto delicatamente, preservando l'equilibrio idrolipidico della pelle. Anche questa mousse è arricchita dalle tre acque floreali bio, alla rosa, al fiori d'arancio e al tè verde e grazie a questi ingredienti è super delicata, lasciando la pelle morbida senza l'effetto che tanto diamo di pelle che tira. Come si usa? Finito lo struccaggio, la passiamo sul viso inumidito, massaggiamo delicatamente e poi sciacquiamo abbondantemente con acqua di abida. Finita la detersione passiamo all'acqua floreale, alla rosa, che si usa come un tonico, quindi si va a utilizzare sulla pelle per perfezionare lo strucco e preparare la pelle tonificandola in vista del trattamento idratante. Oltre a essere al 100% naturale, è ottenuto dalla distillazione in corrente di vapore dei petali freschi di rosa demascena per garantire un'acqua floreale particolarmente concentrata di principi attivi e naturalmente efficace. Per produrre un solo flacone di acqua floreale alle rose servono circa 2000 petali di rosa. A questo punto sono pronta per presentarvi la chicca di questo video, che è il famosissimo olio di nigella, anche conosciuto come olio di cumino nero. Certificato biologico e 100% naturale, quest'olio è ottenuto grazie alla prima spremitura a freddo dei semi di nigella. Questa pianta aromatica nota per le proprietà purificanti e riequilibranti, quindi è un olio pensato alle esigenze delle pelli da miste a grasse. Non solo, stimola i meccanismi di autodifesa della pelle, limita le infiammazioni superficiali e riduce le imperfezioni agendo come un antisettico naturale. E si usa quest'olio, se ne preleva qualche goccia e si massaggia delicatamente ma in profondità su viso e corpo, esatto, può essere utilizzato anche sul corpo, e si fa penetrare in profondità. Piccola tips, provatelo con qualche goccia di acqua straordinaria all'argan come trattamento notturno e poi mi direte cosa ne pensate. L'acqua straordinaria, infatti, esalta le proprietà di qualsiasi trattamento idratante grazie all'azione dell'argan e dell'acido ialuronico. Penetrando all'istante nella pelle regala un'idratazione intensa e immediata, proprio per questo, abbinata all'olio di cumino nero, è perfetta come trattamento notturno. Veniamo alla sorpresa nascosta in questo video. Se acquisterete sullo shop online di Bioschic il gel in oil struccante detox di cui vi ho parlato e l'olio di nigella, l'olio di cumino nero, riceverete in omaggio un set di tre quadrotti struccanti lavabili, 100% cotone bio. Eccoli qua. Sono morbidissimi. E, a sorpresa, riceverete una tra queste due mini size, chiamiamole mini size, sono 50 ml di mousse struccante o di acqua floreale alle rose. Vi basterà aggiungere al carrello il gel in oil struccante e l'olio di cumino nero per ricevere questi fantastici omaggi. Naturalmente trovate tutti i prodotti Melvita e i prodotti di cui vi ho parlato oggi sullo shop online e in tutte le profumerie Bioschic. Vi invito, qualora non l'abbiate già fatto, a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, supportarci dandoci un bel like se questo video vi è piaciuto. E a me non resta che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!